I numeri non mentono praticamente mai e nella giornata simbolo contro la violenza sulle donne, quelli forniti dal telefono rosa in provincia di Frosinone servono a mantenere altissimo il livello di guardia. Sono circa 280 le richieste di aiuto giunte all'associazione dall'inizio dell'anno. Storie di violenza che spesso si consumano tra le mura domestiche, la stragrande maggioranza dei casi denunciati riguarda vittime italiane, oggetto di maltrattamenti da parte di mariti, compagni, fidanzati gelosi o che non si rassegnano alla fine di una relazione. Noi come ceccano, quindi del telefono rosa della provincia di Frosinone, abbiamo ricevuto come telefonate intorno alle 230, solo telefonate. Poi le persone che vengono direttamente, quindi che hanno il coraggio di venire direttamente al centro, abbiamo superato le 280, ma questo è solo come telefono rosa. Di centri antiviolenza la provincia di Frosinone ne ha tanti, quindi se mettiamo insieme i numeri di tutte le associazioni, penso che abbiamo il polso di quello che è la nostra situazione. Aumentano anche i casi di violenza assistita, violenza commessa davanti a figli e bambini piccoli. Su 100 casi, 92-93, c'è il bambino di mezzo che ha assistito alla violenza. Noi sappiamo, oramai è una cosa assodata, che il bambino che assiste o subisce violenza domani sarà lui stesso un violento. E allora qual è la migliore cosa? Prevenire, prevenire è meglio che curare. Il fenomeno relativo alle violenze sulle donne in Ciociaria dunque assume le sembianze di un cancro che si può combattere partendo dalle scuole, facendo informazione e prevenzione. Come Telefono Rosa stiamo mettendo in campo già da anni l'apertura di sportelli di ascolto all'interno delle scuole, aperti a genitori, ragazzi e docenti. Unendo scuola e famiglia abbiamo la risposta giusta. L'obiettivo finale del percorso di assistenza alle donne vittime di violenza è quello del reinserimento nella società. Ecco qui noi abbiamo firmato diversi protocolli di intesa con la Colliretti Lazio e Frosinone, con le imprese donne Lazio, ma io lo sto facendo anche con l'associazione parrucchieri perché mi danno la possibilità di reinserire queste donne. L'ultima l'ho inserita in una lavanderia. Non ha importanza, l'importante è dargli un futuro.